Tutti subiamo l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, eppure sprechiamo così tanto cibo. Non possiamo permetterci di continuare a farlo. Ti presentiamo BreadSmart di Tupperware, il modo facile e conveniente per mantenere il tuo pane da forno fresco, morbido e pronto da mangiare. Da Tupperware, azienda di prodotti di altissima qualità e presente nelle cucine da oltre 75 anni, la qualità e la durata sono garantite. Ecco perché oltre 4 milioni di pezzi sono stati venduti in tutto il mondo. Perché sprecare cibo costoso è come gettare denaro nella spazzatura. L'innovativo coperchio a membrana Condense Control di BreadSmart, dotato di una microventilazione di precisione, è progettato per regolare i livelli di aria e umidità all'interno del contenitore per creare l'atmosfera ideale e mantenere il pane fresco più a lungo. Così, invece di rovinarsi e ammuffire, il pane rimane morbido, fresco e gustoso finché non sei pronto a mangiarlo. Tupperware esiste da 75 anni, realizza prodotti di grande qualità ed io risparmi un sacco di soldi. Chiama per informazioni. BreadSmart è disponibile a questo prezzo sensazionale scontato del 50%. Chiedi all'operatrice il BreadSmart Extra Large per contenere tutti i tipi di pane e dolci ad un prezzo super scontato. E c'è di più! Il secondo è disponibile alla metà del prezzo. Questa offerta promozionale non è disponibile nei negozi, ma solo su ECL Shop. Chiama per informazioni o vai su eclshop.tv